Buonasera da Tourné, qui si punta sul fisico ma ad arte. L'Accademia Dimitri con la sua tradizione di physical theatre si racconta stasera attraverso le storie dei suoi studenti. Mi chiamo Simon Val, frequento il secondo anno all'Accademia Dimitri, nel Bachelor Physical Theatre. Ho cominciato a studiare scienze ambientali in Zurich. Dopo mi sono reso conto che sappiamo quasi tutti i problemi che ci sono, però è molto difficile portarlo e fare che c'è azione, che cambiamo davvero. E per questo, dopo il Master, ricominciare con un Bachelor, che è proprio sul raccontare storie con il corpo, con il movimento. La scienza ambientale è un mestiere abbastanza variato con tante diverse materie e anche qua siamo con musica, con ritmo, siamo con acrobazia, danza, pantomima. Stiamo lavorando con le maschere proprio per vedere come il ritmo e il movimento del corpo già può trasmettere delle emozioni. Qua posso trovare altri modi di arrivare a trasmettere delle storie che fanno cambiare qualcuno, che toccano delle storie che fanno questo mondo molto idealistico, però appunto un posto migliore.